Signori e signori, siamo in Serie A. Non è una novità. Lo sa pure mio papà. Chissà, Krauss, che squadra che ci farà. E per che traguardi lotterà. Quante gioie ci darà. Chi lo sa? Ragazzi, bentornati. Io sono appena finito di tagliare dell'erba, tanto per cambiare. Appena fatta la doccia, distrutto, morto. Come vedete non ci sentiamo da tempo, ma sarà sempre così. Io volevo solo spendere due parole. Diciamo che nessuno ci sa rispondere chiaramente alle domande che ho appena fatto. Perché tutto dipende molto da che squadra andremo a fare, ovviamente. Perché adesso Krauss ha tirato fuori tipo 300 milioni di euro in questi anni qua per riuscire a ritornare dove eravamo. Adesso però, diciamo, bisogna vedere lo spettro al varco, come ho sempre detto. Cioè, voglio vedere adesso le intenzioni che ha per questa squadra. Perché è adesso che le vediamo. È adesso. Ma la fiducia c'è, perché per l'amor di Dio, non si può dire che non abbia dimostrato attaccamento. Se è un altro ci ha messo vagronato di soldi. Quindi dopo uno può giudicare, diciamo, al lato tecnico l'esperienza che all'inizio era veramente poca. Poi man mano se l'è fatta. Magari si è fidato a persone sbagliate. Dopodiché abbiamo migliorato sicuramente. Adesso ha avuto ragione, finalmente, confermando Pecchia. Siamo andati in Serie A. Un finale di stagione che io devo dire non mi è particolarmente piaciuto. Perché da squadra che veramente carburava, da squadra che, diciamo, parliamo di 8-10 partite fa, diciamo dominava, erano azioni su azioni e ogni giocatore dava veramente il meglio. Ci siamo ritrovati alla fine che a momenti, se c'era ancora 5-6 partite di campionato, rischiavamo di non arrivare neanche nelle prime due, secondo me. Non so se benzina finita, non so motivazioni, però io questa partita qua, per esempio, l'ultima con Parma cremonese, poi adesso andremo a giocare domani con la Rezzana, lì ce la godiamo da primi in classifica e vincitori del campionato. e quindi andiamo lì rilassati su un cuscino, diciamo. Però, anche se io mi aspetto di vedere una bella partita tosta, mi piacerebbe veramente vedere una partita tosta e veramente combattuta. Però, a parte questa cosa qua, adesso, come si può dire, adesso dobbiamo vedere cosa andremo a fare. Io, in Parma cremonese, tornando lì, mi stavo dimenticando che cavolo stavo dicendo. Allora, a Parma cremonese, la scelta dell'arbitro è veramente scandalosa, perché è un arbitro di reggio, cioè, insomma, come cazzo fai da mettere un arbitro di reggio? Però, a parte questo, l'abbiamo visto subito, in un quarto d'ora, subito, pronti via, ci ha buttato fuori un giocatore, e, diciamo, quell'espulsione è veramente generosa. Quindi, abbiamo rischiato, come dicevo, questo finale di campionato, voi pensate solamente se noi andavamo a fare sto pareggino, no? Che abbiamo fatto, e, alla fine, il como, mettete che andava a vincere, eh, quei diventava un problema, eh? Perché dopo tu hai giocato tutto all'ultima, con la reggiana, fuori casa. Cioè, ci siamo ridotti veramente così. E, tornando a quello che stavo dicendo, perché poi perdo il filo, io non li preparo, questi video, a parte l'inizio, un po' così, queste parole in rima. Ma, tornando a quello, io vi ricordo che, dieci giornate fa, dodici, cioè, ogni giocatore dava quello che hanno fatto vedere, per esempio, Denisman, Som e Hernani, nella partita con la Cramonese. Cioè, Som, ha fatto tre o quattro scatti, che non lo fermava nessuno. Cioè, nel senso, quando parte con quell'accelerazione lì, improvvise, non c'è nessuno in grado di fermarlo. Ok? Poi lo meno in serie B, questo si è visto. Ma, secondo me, anche in serie A si era visto qualcosa. E, quindi, Som, io per esempio, nonostante, il vero problema di Som è che io non capisco perché non è costante in questa cosa. Cioè, quei tre o quattro strappi importanti a partita li puoi fare. Non è un discorso di fiato perché puoi farlo anche nel primo tempo. Cioè, non capisco perché questa sua caratteristica venga fuori ogni tanto. Lì è Pecchia che dovrebbe veramente, perché quella è la sua caratteristica predominante, che veramente cambia la partita. Avete visto come è entrato in aria, ha devastato la difesa, e poi per un attimo facevamo gol. Cioè, è sempre pericoloso quando fa questi scatti qua. Che parte da centrocampo o che parte vicino all'aria è sempre pericoloso. Dennis Mann, una certezza, una certezza. Bernabè, eh, vabbè, abbiamo capito, è Bernabè. Non ce n'è altro da dire. Sotto le altre cose che ho visto, io per quanto riguarda i portieri, veramente non capisco perché Cicci Zola diciamo debba giocare titolare, ma non tanto per perché non è diciamo un portiere ancora valido per la Serie A secondo me, ma perché diciamo fa troppi errori. Adesso qua è ovvio che il giovane che è venuto in campo qua gioca una partita ogni vent'anni può sbagliare, a parte che cioè ci sono altri portieri in panchina che sono anche più validi, ok? Però diciamo le persone bisogna farle giocare, non puoi farle giocare una volta ogni vent'anni e pretendere che uno entra in campo è sicuro. Ecco, però io le cagate che ho visto quest'anno da Cicci Zola e da Osorio diciamo che non ho avuto abbastanza e vi ricordo che per qualcuno che dice ah, se sei polemico va a cazzire hai vinto il campionato dovresti essere super mega felice vabbè però era ora dico perché quindi era ora però un campionato da figa soffrire tutto l'anno e sperare in bene di riuscire a salvarti ma allora sto in B e domino piuttosto cioè a me non mi diverto un po' perché quest'anno alla fine ti sei divertito a parte il finale è un po' schifoso un po' sottotono però se devo andare in A e beccarle da tutti allora no e infatti è per quello che vi dico aspetto del Varco Kraus per quel motivo lì perché in Serie A quei 3 o 4 in Ness di qualità in particolare in difesa li devi fare se no se no devi sperare nel miracolo vabbè ragazzi io vi saluto non so cos'altro dirvi godiamoci Reggiana Reggiana Parma e speriamo di vincerla e basta dopodiché diciamo sul canale probabilmente vedrete quasi esclusivamente qualcosa di calciomercato quest'estate non so se rivedremo il velo perché purtroppo io non l'ho più visto ve lo dico chiaramente è latitante tra una cosa e l'altra non ci siamo più visti quindi niente lato mio vi dico una cosa perché per me non ci sono segreti allora l'anno prossimo io ve lo dico molto chiaramente mi dispiace per quelli che sono affezionati molto a questo canale non saranno tantissimi ma quei pochi sono veramente affezionati ma io l'anno prossimo siccome non ho veramente tempo ho più di un problema è così e quindi cosa succede succede che siccome il tempo veramente troppo tiranno per mettersi a montare video fare miniature o qualsiasi roba che richieda poter mettere un video online l'anno prossimo o le views in serie A delle radio croniche o delle post partite sono una cosa diversa oppure farò le post partita e le mago croniche veramente solo quando avrò il tempo proprio a dire oggi ce l'ho e oggi si fa se no non vi garantisco assolutamente niente ve lo dico adesso per cui se qualcuno si vuole disiscrivere anche oggi lo faccia pure perché ve lo dico adesso questo corsa appena è finita la partita c'è da fare il post partita io lo so che triplica quadruplica le viuse eccetera perché è appena successo il fatto ma sinceramente non me ne frega assolutamente niente perché io devo conciliare il tempo con quello che è più importante e ovviamente youtube nel mio caso non lo è assolutamente per cui mi dispiace allora l'alternativa è non ci fosse possibilità di vedere qualcosa di più semplice in serie A a livello di views e chiudere il canale cosa che non vorrei fare e probabilmente non farò però le pubblicazioni potrebbero diventare molto più rare io ve lo dico perché è così senza diciamo un aiuto non riesco assolutamente a trovare tempo per questa cosa e siccome porto casa io ve lo dico perché è una passione no ok è bello magari fare un po' spazio dire la propria e lo farò ancora io ve l'ho detto probabilmente lo faccio assolutamente ma ma a portare a casa a livello economico quindi un ritorno economico un aiuto così non esiste sono pochi euro nel mio caso quindi non è una cosa che giustifica potrei pensate che potrei addirittura aprirevi un canale di tipo diverso di un argomento totalmente diverso da quello che è adesso io non lo so ci penserò perché il tempo potrebbe anche essere suddiviso tra più canali con argomenti completamente diversi completamente diversi perché ci sono diverse cose passioni o cose che conosco e di cui potrei parlare a livello di calcio ognuno pensa la sua io non sono né guardiola né chiunque altro di importante a livello calcistico e quindi veramente è così non so cos'altro dirvi era solo per anticipare un attimo le cose siamo andati lunghi vi ho anticipato anche questo e questi sono mesi fra l'altro da marzo a metà giugno che sono terrificanti per me perché tra impegni di casa con tre figli eh mica uno tre il lavoro e una parte di giardinaggio diciamo taglio erba che ripeto io non vivo in condominio e c'è una valanga di pioggia e sole che fa crescere montagne di erba io il tempo non ce l'ho e sinceramente a una certa ora poi viene voglia anche di riposarsi più che fare dei post partito da oro benzerra quindi io vi saluto e vi ringrazio comunque per chi ha ascoltato fino a questo punto veramente c'ha due coglioni grossi come una casa e ci vediamo alla prossima occasione ciao